Allora Posso vedere gli utenti migliori, sì Li posso vedere Non ve li ho mostrati Spero, non ve li ho ancora mostrati Vediamo Belvete, vediamo Belvete Ma me ne mostrava tipo 8 utenti migliori Me ne mostrava 8, forse 10 addirittura Ehi là, c'è un murer Non è l'utente chat migliore È incredibile, incredibile Quelli sono i veri, veri, veri Ovviamente Ma vogliamo fare un late invade? Possiamo fare un late invade? Why not? Anche se Hagarin dovrebbe startare Raptor Il che potrebbe darci abbastanza fastidio Più Hagarin malacca per fare execute sul campo Quindi Un po' fastidioso No, no, no Eravamo andati un po' troppo presto, capo Eh, infatti, eccolo qua Stupidino Non lo so È Karim l'audace Che dirvi, ragazzi Era convinto di riuscire a vincere smite fight, suppongo La confidence non l'ha aiutato O forse il tilt Tante volte quando uno viene invaso così poi Viene sopraffatto dalle emotions Abbiamo preso anche il ghost di Gwen E il ghost di Ekarim E qua mi serve una word Lux Lux Word Raptors Pronto Wordami Raptor Mannaggetta Ciao, buona giornata Ha anche flashato il cringio Ah, mi ha botto Pronto Pronto Vabbè, comunque Lux 3 di punto Doveva wordarmelo 6 ore fa Doveva wordarmelo Ah, davvero mi ha spottato Sta facendo il gron Poi lupi, ragazzi No, lo so, guys Questo fa la fine di Questo fa la fine di Evelyn fa I ragazzi Umiliati Con stile Se non dormono Andiamo anche a invadere Vedete, è guardato qua I mean Colby Doveva essere qua Oh, what? Ragazzi, se skinigliano è pay to win Aveva il tornado staccato? Aveva il dash up? Ma non è mai vero Ma non è mai vero Che aveva il tornado staccato Ma quando mai? Che menzogne Ma non c'era un'animazione Qualcosa intorno What the fuck? Sono unfair Allora, se è davvero smart Smart Cioè, se è smart Se è più o meno smart E mi è andato a invadere il Duma Non credo, onestamente Ma mi si era Bagata la chat Non carino, ragazzi Sad No, patato Ho scoperto Che su Belvette Cosa abbastanza controintuitiva La E non si usa Alla fine Benza? Andiamo a farci golem Poi andiamo a farci il drago Magari anche un lane gank bot Il signor morti Cerca un uomo O donna Perflex Ma penso anche a qualsiasi Altra cosa Individuo, insomma Perché non è alla fine? Perché è più importante il cooldown Che il danno Per clearare i campi Quindi anche se controintuitivo Tu non aspetti Di portarli in basso di vita La loro bot è morta Io non dovevo morire Anche se l'ha chiamato Trash Quindi mi sono anche levato Ah, non davo shutdown Vabbè Sad, ma la mia W iniziale Che ha missato? Quella è la vera roba triste Onestamente Cioè, la mia W Ha missato What the fuck Com'è possibile che... Cioè, non capisco Mi sembrava completamente hittata Secondo me Il gioco mi ha mentito Vabbè Abbiamo preso summoner di affiliate Summere di trash Abbiamo fatto 2x1 Con kill sul loro support Più doppia wave persa Per loro Triple wave persa Più wave che bounce back Facciamo good to save list Certo, pure l'out di hash Un po' too much Faccio anche livello 6 Quindi possiamo fare pure questo qua Anche se Stiamo lasciando a Eccari la possibilità di Giocare a League of Legends Farmandosi la jungle Immagino sia irrilevante Devo andarmi a lasciare l'herald Perché se Karim non è stupido Lo sta facendo Quale potrebbe essere la play Red herald straight Maione Eh, già l'ha fatta Vabbè, peccato Ma... Il nostro millenere Abbandonato la mid Alquanto curiosa Lux Con questo decision making Ciao Salve salve Ione Ah, what the fuck Volevo provare a vedere una cosa Va bene Nooo La mia bot Sedge Ah, mi ha spottato Fuck Sciocco Vabbè Let's get out to beer Ma come fa la roster Mi da perdere così hard Ho gancato al 2 Al 3 Ho riuscito Ione Ma che cazzo Actually So bad La donzella Nooo Che scivolone Capo Che scivolone Per davvero Vabbè Trash Buonanotte La bulle Andremo a invadere Il problemina è i soldi Che dovrei Tipo spendere A un certo punto Suppongo Tipo una seccatura Sto fatto che devi comprare Effettivamente gli oggetti Ma tipo su data Non c'è un mercante Che ti segue Una ruona La potrebbero mettere Invece di beccare Fai apparire il mercante Una keystone Qualcosa Ora si che mi farebbe Essere felice No Dare Un pa Se non fai flash Le cose Offensive Non la posso uccidere Vabbè Facciamo questo Ma era meglio Tubby Di Kindle Jam Ma vabbè Il game L'abbiamo già Carriato Hard Buonasera Piera Come stai Buonasera Buonasera Alla mia botta La smette di ticcare Parzialmente Redempt Non più Redempt Oh Ops Ops Emotions Memories These Are what I Crivo Ah A gente Lava Sano Fareira Gazzi Un po' lenti Trash Gli altri Ma Pd Dita I suppose Non flash Abilios Non flash Non flash Always win Guys Ah Non mi sono curato In tempo Beh Vabbè Il mio middener La mia botta Sono actually So disgusting Incredibile Che avevano Vole di pagare Non avremmo fatto Tranquilamente 4 Bruno Giocandola Probabilmente Anche male Game knowledge Un po' da rivedere Qua mi sa Ah li perdoniamo Per questo Suppongo Va bene Va bene Mi fa onore Guarda che Questi sono Master 100 LP Il mio secondo account È master 200 LP Pensa 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 High High heel only C'è trash che si vuole ammazzare Guarda Oh Mi è schiccato L'herald Ma porca paletta Volevo Non volevo evocare L'herald È stato un incidente Immagino Volevo Volevo Lo stesso Per quanto Non la toccavo Your team Has destroyed A turret Is You Has destroyed Grazie a tutti. Potremmo levare la ward... ...sped... Incredibile come... Cioè, non trust nemmeno quello che è 350-0. Ho avuto un Ictus. Oh, grumpino. Oh, bella questa scena. Povero grump, povero grump. Va bene, GioGio. Maledetto. Maledetto. Tch, cadono il Ghost. An enemy has been slain. Killing sprui. Nowhere is safe. Maledetto. 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 Questa è un momento. Sì un po' di belveting chi voleva era un po' che non la giocavo recap in tua arena con chat ah guarda un'arena si potrebbe anche pensare di fare ah ho miscliccato what am i doing ok non mi hanno full onorato trogloditi